primo giorno di zona rossa pesaro tra limitazioni e permessi ragazza pesarese scomparsa ritrovata in stato confusionale dopo ore di ricerche incidente mortale in via flaminia muore un 61enne torna passaggi festival presentata la nona edizione della kermess fanese buona serata e benvenuti al nostro telegiornale oggi mercoledì 10 marzo è il primo giorno di zona rossa che si protrarrà almeno fino a domenica nel nostro primo servizio quindi andiamo a vedere come si presentava questa mattina la città di pesaro alle prese con le nuove restrizioni mercoledì 10 marzo dalla mezzanotte di oggi pesaro come tutta la provincia di pesaro rubino è entrata in zona rossa questo significa che ci sono forte limitazioni sia le attività lavorative sia soprattutto agli spostamenti ora è mezzogiorno di appunto mercoledì 10 marzo e ci troviamo in piazza del popolo una piazza in cui ci si può spostare solo per comprovate esigenze di lavoro per attività essenziali come fare la spesa e per rientro a proprio domicilio così come su tutto il territorio zona rossa significa un grosso cambiamento soprattutto per le attività commerciali da oggi serrande abbassate per tutti i negozi per lo meno per tutte quelle attività di vendita al dettaglio che non forniscono servizi essenziali restano infatti aperte tutte le attività di vendita di genere alimentare le edicole i tabaccai le rivendite di computer le librerie i negozi di articoli di cartoleria di articoli sportivi di fiori e piante e naturalmente restano aperte farmacie parafarmacie e anche negozi di cosmesi e di profumeria tra i servizi alla persona restano invece aperte pure le lavanderie noi continuiamo a lavorare sicuramente sempre mantenendo tutte le procedure in base alle normative quindi l'ingresso a solo una persona comunque sempre la mascherina e vediamo cosa come andrà poi la situazione restano sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar ristoranti gelaterie e pasticcerie che non hanno però nessuna restrizione per quello che riguarda la consegna a domicilio con l'asporto consentito fino alle 22 con divieto di consumazione sul posto molte di queste restrizioni erano già presenti con i limiti di zona arancione diciamo che rispetto alla zona rossa le cose non sono cambiate molto perché si può comunque consumare da asporto però abbiamo visto la differenza nel senso che in zona rossa è più tranquillo ci sono molte meno macchine rispetto a prima però ecco noi siamo comunque aperti garantiamo il servizio dalle 6 l 18 quindi noi ci siamo poi la speranza sempre insomma di ritornare come prima di rivedere un po di di persone e da oggi a casa alunni e studenti di ogni età e di ogni grado di istruzione con l'entrata in vigore della zona rossa infatti chiudono anche asili nido scuole materne scuole primarie mentre la didattica a distanza era già cominciata da tempo nelle scuole superiori e dalla scorsa settimana anche in tutte le scuole medie le scuole non sono chiuse c'è anche qui la presenza di docenti e personale per garantire la didattica a distanza resta invece consentita la didattica in presenza per gli alunni portatori di disabilità con bisogni educativi specifici e anche per le attività laboratoriali la zona rossa comporta anche forti limitazioni all'attività motoria e sportiva qui ci troviamo al campo scuola di via respighi con i cancelli chiusi perché l'accesso è consentito solo all'attività sportiva di livello agonistico riconosciute dalle coni dal comitato paralimpico dunque gli amatori gli amanti del jogging possono in questo caso effettuare la loro corsetta soltanto in prossimità delle proprie abitazioni come previsto dall'attuale regolamento da oggi serrande abbassate per barbieri, parrucchieri e centri estetici non capitava da maggio, non capitava dallo scorso lockdown ieri attività prese d'assalto per l'ultimo taglio e da oggi si chiude sembrava come Natale o due sabati insieme quindi c'è stato appunto un afflusso enorme non ci aspettavamo di ripetere appunto una cosa, un ritorno della chiusura quindi ci auspichiamo vivamente che ritorni una situazione alquanto normale e noi siamo in sicurezza e vogliamo bene i nostri clienti e il nostro lavoro diciamo che nel sociale ha una certa importanza quindi auspichiamoci un miglioramento della situazione ma per noi ma per tutta la società Ed ora passiamo alla cronaca perché sono durate diverse ore le ricerche di una ragazza di 27 anni scomparsa questa notte ritrovata attorno alle 15 di oggi in un canneto non lontano da Candelara la ragazza residente a Santa Maria dell'Arzilla, mamma di due figlie è stata ritrovata dai vigili del fuoco che assieme ai carabinieri hanno cercato fin dal primo mattino la giovane utilizzando anche elicotteri da soccorso ricerche che erano cominciate dopo il ritrovamento dell'auto aperta e abbandonata della 27enne sul ciglio della strada attorno al trebbio della sconfitta la ragazza è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti e continuiamo a parlare di cronaca perché c'è stato purtroppo un incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Pesaro in via Flaminia all'altezza di piazza Redi a perdere la vita Antonio Cetta, 61enne pesarese, disabile, piuttosto noto in città l'uomo è morto dopo che attraversava la strada a bordo di una carrozzina motorizzata inutile il soccorso dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso e torniamo ad occuparci di sanità e della curva dei contagi che negli ultimi giorni ha un andamento piuttosto altalenante dopo il calo al 10% di ieri della percentuale fra casi positivi e tamponi effettuati oggi le marche sono risalite al 18,8% con ben 881 contagi su 4.676 nuove diagnosi per un totale di 7.315 tamponi processati continuano a crescere i ricoverati nelle marche ora sono 760 di cui 107 in terapia intensiva in provincia di Pesaro Urbino i casi di contagio sono 137 ben 358 quelli nella provincia di Ancona e ad oggi le marche risultano una delle regioni in cima alla classifica nazionale per quel che riguarda la velocità di somministrazione dei vaccini rispetto alle dosi fornite con l'85% delle circa 176.000 dosi consegnate le marche risultano sopra la media nazionale che si attesta invece al 70% vanno ad una velocità di somministrazione superiore soltanto Val d'Aosta, Puglia e Campania intanto attenzione ai truffatori in tema di vaccini infatti Asur ricorda di non aver mai predisposto operatori sanitari per la verifica di eventuali effetti collaterali successivi alle vaccinazioni Asur invita pertanto a non far entrare in casa sedicenti addetti Asur e di denunciare il fatto alle forze dell'ordine disabili, autistici e soggetti fragili non sono ancora stati inseriti fra le categorie prioritarie da vaccinare il consigliere regionale Andrea Biancani insiste perché si superi in fretta questo ritardo Beh io avevo chiesto io insieme anche ad altri consiglieri regionali avevamo chiesto ormai da diversi mesi di fare in modo che le categorie i soggetti fragili o disabili fossero inseriti come soggetti prioritarie questo purtroppo non è avvenuto per quanto riguarda soprattutto i disabili intendo persone colpite dall'ospetto autistico che hanno una disabilità sensoriale interrettiva, di tipo psichiatrico quindi sono soggetti che molto spesso dipendono da altri quindi hanno bisogno di supporto degli altri persone o dei familiari quindi caregiver e purtroppo ancora non sono inseriti tra coloro che hanno la priorità per essere vaccinati questo è un dato molto negativo perché io ritengo che queste persone hanno bisogno veramente del sostegno e chi come noi ha un ruolo pubblico deveva inserirli tra i soggetti prioritari stanno iniziando per coloro che sono come dire incarico al sistema sanitario regionale mi riferisco ad esempio ad una persona malata di tumore cioè un oncologico dove il sistema sanitario chiamerà questi soggetti ma anche lì ci sono tanti soggetti fragili che a tutt'oggi non hanno la possibilità di potersi pronotare e quindi di poter fare il vaccino parliamo di persone che se qualora dovessero essere colpiti dal virus rischiano come altri ma probabilmente più degli altri le conseguenze e quindi mi sembra importante e continuerò a ribadire che è necessario inserirli quanto prima perché possono fare appunto questo vaccino il momento è difficile anche per le famiglie che sono alle prese con scuole e asili chiusi a tal proposito il consigliere comunale Giulia Marchionni ha protocollato la richiesta al comune di sospensione proprio delle rette di nidi e materne per questo mese di marzo vediamo mi è venuto spontaneo da mamma e da consigliere comunale ieri protocollare la richiesta all'amministrazione comunale di intervenire sulle rette e sui servizi accessori dei servizi educativi del comune di Pesaro in qualche maniera questo mese di marzo è stato uno stravolgimento per le famiglie che dall'oggi al domani si sono trovati con i servizi educativi chiusi come centrodestra con i miei colleghi ieri abbiamo protocollato questa richiesta all'amministrazione di sospendere il pagamento delle rette delle materne e dei nidi e di intervenire qualora questa situazione si dovesse protrarre speriamo di no e ce lo auguriamo tutti però qualora dovesse succedere non solo sospenderla ma eventualmente prevedere una riduzione percentuale qualora nell'arco di pochi giorni si prevedesse un ritorno in presenza a scuola oppure la cancellazione totale di queste rette per il mese di marzo e per tutto il tempo in cui i servizi rimarranno chiusi è un piccolo gesto è un piccolo segno che però come amministrazione possiamo fare abbiamo chiesto anche all'amministrazione di intervenire nei confronti delle scuole paritarie e private che comunque svolgono un grande servizio alla città e aiutano e sostengono tante famiglie anche in quel caso se le strutture dovessero decidere di ridurre le rette il comune potrebbe andare in loro aiuto come presidente della commissione bilancio in quest'anno ho visto passare sulla scrivania virtuale della commissione veramente tanti fondi che sono giunti dall'amministrazione regionale e dall'amministrazione statale proprio a sostegno dell'emergenza covid io credo che questa proposta di buon senso vada vada sostenuta e che l'amministrazione e la giunta senz'altro saranno concordi nel garantire questa riduzione delle rette confcommercio Marche Nord ha stretto un accordo di partnership con Sherryland la mappa delle meraviglie dell'Italia da scoprire Sherryland è una piattaforma social che ha come finalità la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso attraverso la creazione partecipata della mappa delle meraviglie su questa piattaforma verrà promosso l'itinerario della bellezza e altre eccellenze del territorio pesarese il comune di Pesaro metterà a disposizione dei buoni viaggio grazie ai quali si potranno ottenere voucher del valore di 10 euro spendibili per il servizio di noleggio con conducente o taxi per gli spostamenti necessari in ambulatori studi medici e punti di vaccinazione le categorie che potranno fare domanda e usufruire dei voucher sono disabili persone con mobilità ridotta o patologie accertate persone che hanno necessità di recarsi presso strutture sanitarie o punti di vaccinazione persone con più di 70 anni nuclei familiari con minori con ISE inferiore ai 16.000 euro per fare richiesta andrà compilato l'apposito modulo disponibile sul comune di Pesaro nella sezione servizi sociali da qualche giorno l'area parco di Soria fra via Gattoni e via Diplovatazio si è arricchita di giochi per disabili grazie ad una causa vinta dall'assessore comunale Enzo Belloni che ha deciso di investire così il suo risarcimento vediamo nasce da una discussione finita male con insulti rivolti a un familiare quindi è una cosa che non mi sembrava accettabile e abbiamo deciso di fare causa e quello che avremmo il risarcimento che avremmo ottenuto avevamo già deciso di destinarlo a questo gioco inclusivo che la mamma della piccola Sofia ci aveva chiesto quindi un gesto brutto che alla fine però ci ha permesso di realizzare un intervento importante e i giochi inclusivi sono giochi importanti che piano piano come amministrazione stiamo provando a mettere in tutti i parchi la disabilità è un tema importante molto forte io per esempio la sento perché la vivo anche in famiglia e tutti noi ci riempiamo la bocca dell'accessibilità di tanti temi ma quello che conta è i ragazzi che poi diventeranno uomini e dovranno vivere tutta la loro vita la disabilità hanno un sacco di situazioni difficili da affrontare quando sono piccoli magari un pochino più facile perché gli amichetti sono più vicini poi man mano che l'età cresce i problemi salgono quindi il sentimento nei confronti della disabilità non è solamente un posto H o una rampa per far accedere le carrozzine ma è stare vicino a queste situazioni difficili non solo quando hanno 5 6 7 anni ma quando hanno 20 30 40 o 50 allora diventa un pochino più difficile per tutti sono molto soddisfatto perché è una richiesta che sentivamo molto è stata una scelta spontanea l'idea di questo gioco è nata qui proprio qui davanti assieme all'assessore Belloni facevamo presente questa esigenza ed è stata un'idea sua quella di mettersi a disposizione a fronte di un risarcimento che avrebbe ricevuto e che ha ricevuto e ha donato parte di questo risarcimento per far fronte ad un'esigenza che purtroppo è reale quindi a lui va il nostro ringraziamento la nostra soddisfazione non è l'unico perché sono due per fortuna i giochi inclusivi di questo parco il secondo anzi il primo installato è il dondolo il dondolo al cesto e quindi ci gratifica gratifica il nostro impegno si chiamerà d'infinito e provvisorio l'edizione 2021 di Passaggi Festival presentata oggi a Fanno ne abbiamo parlato con il direttore della Kermes Giovanni Belfiori torna Passaggi Festival siamo alla nona edizione dal 18 al 25 giugno sarà l'edizione più lunga in assoluto 8 giorni di incontri librari e non solo torna nel centro storico di Fano e nel lungomare ci sono tante conferme rispetto alle edizioni precedenti ma ci sono anche delle novità molto interessanti innanzitutto lo dicevo prima i giorni c'è un giorno in più sono 8 giorni di festival e poi le sedi oltre a quelle che abbiamo già dalle precedenti edizioni la piazza con la rassegna libri in piazza la San Francesco con le tante rassegne librarie la Mediateca con le presentazioni dei libri per i più piccoli la parte del pincio riservata ai più giovani alle graphic novel l'uccellin belverde una sala da tè in centro storico con gli incontri scientifici insieme all'università di Camerino ci sarà anche la novità del mare al mattino già sperimentata in parte l'anno scorso al lino al bonbon con delle presentazioni alle 9 e mezza del mattino e queste presentazioni le ripeteremo anche ovviamente con libri diversi a torrette di Fano quindi bonbon lido di Fano bagni di torrette a torrette di Fano con buongiorno passaggi libri a colazione un'altra novità sarà la rassegna curata dal direttore di Radio 3 Marino Sinibaldi anno per anno una rassegna che sarà ospitata alla chiesa di San Francesco il tema è di infinito e provvisorio parleremo quindi anche della situazione attuale di questo tempo dove tutto ci sembra così precario dove ci sembra che il genere umano è più debole di quanto lo fosse prima sarà un tema che affronteremo in molti modi anche attraverso le mostre d'arte perché dentro Passaggi Festival ci saranno anche esposizioni d'arte ci saranno anche i laboratori per i bambini e ci saranno infine tre premi del Festival il premio Passaggi il premio Fuori Passaggi che è una novità di quest'anno e il premio giornalistico Andrea Barbato e Gradara continua ad essere il cuore pulsante della provincia per quel che riguarda le celebrazioni del settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri in occasione allora della festa della donna la stessa Gradara è stata fra i motori organizzativi di un flash mob planetario che ha celebrato la figura di Francesca da Rimini Gradara continua ad essere fra i comuni italiani ambasciatori delle iniziative che celebrano il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri in occasione dell'otto marzo festa della donna l'amministrazione del sindaco Filippo Gasperi è stata parte integrante nel creare la rete che ha tessuto il flash mob planetario World Wide Kisses Baci dal Mondo un tributo alla figura di Francesca da Rimini eroina del sommo poeta in collegamento dal teatro Aminto Regalli di Rimini si sono così riuniti in streaming studenti insegnanti di 21 università di tutto il mondo da Buenos Aires all'australiana dell'Aide da New York alla sudafricana Johannesburg contributi di letteratura e romanticismo in tutte le lingue a mostrare quanto sia tuttora forte e contivisa la conoscenza dei canti di Dante una conoscenza per l'occasione focalizzata sulla figura di Francesca da Rimini coinvolta in parte anche la città di Pesaro con il pianoforte di Ubaldo Fabri che ha proposto musica e canto dell'area di Gioacchino Rossini la Francesca da Rimini un evento davvero planetario 21 università di tutti i 5 continenti e questo per Francesca da Rimini per Dante ma anche per noi come più o meno giovani che a volte perdiamo fiducia e speranza questa è una bella iniezione che oggi ci serve davvero nessuno ha voluto mancare è stata una dimostrazione di coraggio impegno ma soprattutto di positività che mi ha lasciato e ha lasciato anche il Comitato Scientifico con me assolutamente stupiti una cosa bellissima questi giovani hanno lavorato proprio in prospettiva con fiducia nel futuro con poesia e bellezza all'insegno di Francesca da Rimini e questo per noi non è poco tutto il mondo la Francesca da Rimini oggi nella nostra contemporaneità afferma due valori fondamentali che la nostra civiltà ha perso purtroppo non persegue con la forza dovuta uno è che il matrimonio la scelta del compagno non deve essere forzata deve essere libera scelta secondo che nella passione e nell'amore uccidono di queste due affermazioni di cui oggi c'è veramente tanto bisogno Francesca è testimone esemplare faremo un anno di circa oltre 30 eventi tutti all'insegna di Francesca da Rimini e naturalmente di Dante e adesso è il momento di vedere quella che è la prima serata di questa sera su Rossini TV alle 20.30 trasmetteremo in diretta dal Teatro Rossini in collaborazione con Sinfonica 3.0 atto primo questo bellissimo omaggio al Giappone un concerto nel decimo anniversario del terremoto e tsunami e chiaramente essendo il concerto alle 20.30 alle 20.40 questa sera non ci sarà la replica del telegiornale e poi ancora alle 21.30 c'è un approfondimento dedicato ai finanziamenti europei alla nostra regione Marche rivolta appunto all'Europa quindi non perdetevi questo approfondimento molto interessante mentre domani vi ricordiamo il nostro appuntamento con lo sport domani sera alle 21.15 insieme a Canestro guardate che ospiti d'eccezione avremo domani infatti Marco Cadeddu intervisterà Andrea Beretta che è il titolare di Prosciutto di Carpegna e poi Simone Zanotti ala della Carpegna Prosciutto e poi Dan Peterson addirittura sarà collegato con noi l'ex allenatore e all of Famer grandissimo personaggio televisivo e non solo molto amato e lo ringraziamo quindi per partecipare a questo nostro programma invece adesso è il momento di vedere le previsioni meteo io vi do appuntamento a domani alla nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20 buona serata grazie a tutti grazie a tutti